È il microfono di settimana sport Pier Sigona del Borzoli. Oggi una vittoria importante su un campo non facile, però siete riusciti a rendere una vittoria semplice, appunto una gara che non lo era fatto. Sì, sapevamo che era una partita difficile, i primi minuti comunque ci ha messo in difficoltà. E poi quando l'abbiamo sbloccata comunque si è vista la nostra forza e abbiamo fatto molto molto bene. Ecco, secondo te quali sono gli aspetti forse su cui ancora potete migliorare? Ecco, comunque una squadra in vetta, punteggio pieno, quindi c'è poco da migliorare, però magari qualcosa... C'è sempre qualcosa da migliorare. Partiamo comunque sempre forte. Noi per il secondo tempo si vede che comunque andiamo più degli altri e questa è la nostra forza. Ci alleniamo sempre a mille e in campo poi si vede. Ecco, prossimo impegno con la Ruentes, un'altra gara non facile. È una partita molto dura e la Ruentes comunque è una tra le prime che può vincere il campionato. Sicuramente sarà una bella partita, comunque gioca un buon calcio e sicuramente ce la metterò. Faceremo tutta per mantenere il primato. Grazie mille.